Ben ritrovati in nuovo appuntamento con parole 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 il nostro il vostro appuntamento quotidiano con la lingua italiana lo sapete già approfondiamo ogni giorno una parola diversa della nostra lingua ovviamente ascoltando anche quelli che sono i vostri suggerimenti la parola scelta per oggi è rispetto rispetto è un sostantivo maschile singolare che indica un sentimento un atteggiamento che nasce dalla consapevolezza del valore di qualcosa o qualcuno ovvero osservare i valori ciò che vale una persona ecco l'etimologia deriva dal latino respectus da rispicere cioè guardare indietro composto da re indietro e spiccio guardare tra i sinonimi possiamo citare riguardo stima attenzione considerazione tra i contrari invece possiamo citare disprezzo critica non curanza offesa insulto oppure oltraggio sono questi alcuni ovviamente dei sinonimi e dei contrari che possiamo citare in merito alla parola rispetto le frasi che abbiamo scelto per oggi anche in questo caso sono particolarmente significative la prima appartiene ad eric from e dice il carattere attivo dell'amore diviene evidente nel fatto che si fonda sempre su certi elementi comuni a tutte le forme d'amore quali la premura il rispetto la responsabilità e la conoscenza from con questa frase vuole ovviamente sottolineare l'importanza di caratteristiche quali il rispetto la responsabilità la premura e la conoscenza questo perché perché sono delle caratteristiche fondamentali in ogni tipo di rapporto che sia amorevole che sia di amicizia che sia di parentela ecco queste sono dei questi sono dei valori fondamentali il rispetto ovviamente è tra questi bisogna rispettare che abbiamo davanti anche se non rappresenta nulla nella nostra vita anche se una persona che non conosciamo dobbiamo rispettare le sue idee va bene confrontarci ma dobbiamo sempre avere rispetto di ciò che pensano le altre persone invece l'altra frase appartiene da reta franklin e dice penso che sarebbe un mondo molto più grande se le persone fossero più gentili e più rispettose l'una con l'altra anche in questo caso viene sottolineata l'importanza del rispetto nei confronti di un'altra persona oggi questa è una parola di fondamentale importanza se oggi riuscissimo tutti quanti a rispettarci a rispettare il prossimo sicuramente oggi non staremo parlando di guerre che attanagliano da secoli il mondo il rispetto deve essere la base di ogni società di ogni paese di ogni comunità di persone anche in questo caso siamo giunti al termine di questa puntata io ovviamente vi ringrazio per averci seguito perché siete sempre in tantissimi e vi ricordo che potete scriverci le parole di cui siete più curiosi sulle nostre pagine facebook e instagram di sicilia 24 e di spazio notizia grazie per averci seguito parole 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 torna domani